Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it Capita spesso di leggere di titoli di news relativi ad un'allarme salmonella ad esempio sicuramente ricorderai il maxi ritiro delle uova di cioccolato più famose nell'aprile del 2022 Gli allarmi generalmente sono scatenati dalle salmonelle Enteritidis e Tifimurium dette anche salmonelle minori o non tifoidee che sono le responsabili del 50% delle infezioni gastrointestinali nei paesi industrializzati In questo video scopriamo cos'è la salmonella, come si trasmette e quali sono i sintomi ma soprattutto come evitare questa spiacevole esperienza Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale Col termine salmonella si identifica un gruppo di batteri gram negativi a forma di bastoncelli e muniti di flagelli che colonizzano l'intestino di rettili uccelli e mammiferi La trasmissione all'uomo avviene per via oro fecale quindi attraverso l'ingestione di alimenti contaminati dalle feci di animali infetti Più raramente può avvenire per contatto diretto ad esempio se è presente una ferita che viene a contatto con del materiale infetto La salmonellosi si manifesta dopo circa 12-36 ore dall'ingestione dell'alimento contaminato e dura per circa 4-7 giorni I sintomi sono generalmente riguardanti il sistema gastrointestinale quindi dolori addominali, nausea, vomito e diarrea Tutti questi sintomi rappresentano il modo che l'organismo ha per liberarsi del batterio espellendolo all'esterno Generalmente sono presenti anche febbre, mal di testa e dolori articolari In soggetti fragili come neonati, anziani o pazienti con un sistema immunitario compromesso l'infezione può diffondersi al sangue e arrivare ad interessare il cuore, le ossa e le meningi Nelle donne in gravidanza la salmonellosi può compromettere lo sviluppo del feto e provocare aborto o parto prematuro Anche l'uso di alcuni farmaci può aumentare il rischio di salmonellosi Ad esempio, chi utilizza farmaci antiacido si ammala più facilmente perché non ha la barriera offerta dall'acido gastrico che altrimenti ucciderebbe la salmonella Questi batteri infatti muoiono a pH inferiori a 5.5 In genere per la diagnosi è sufficiente la coprocoltura cioè la ricerca all'interno delle feci del batterio salmonella Il medico può decidere di fare la ricerca anche nell'alimento sospetto per avviare l'eventuale filiera dei controlli Nei casi non complicati di salmonellosi la cura si limita alla gestione dei sintomi alla reidratazione per recuperare i liquidi persi e all'integrazione con batteri probiotici per ripristinare la flora intestinale Gli antibiotici si utilizzano solo quando l'infezione si diffonde o nei pazienti fragili Il serbatoio naturale delle salmonelle minori o non tifoidee è costituito dall'intestino di rettili, uccelli e mammiferi Il rischio di infezione nasce dal consumo di carni e derivati animali dalla contaminazione di acque e superfici ma anche dalla convivenza con animali domestici Vediamo quindi quali sono gli alimenti e le situazioni maggiormente a rischio Gli alimenti maggiormente a rischio sono carni crude o poco cotte di polli, bovini, suini ma anche altri animali anche selvatici Latte crudo e derivati come i formaggi uova crude o poco cotte pesce e molluschi crudi contaminati dalle acque acque contaminate ma anche alimenti già pronti e conservati come gelati, salse, creme e frutta tagliata L'infezione da salmonella può essere contratta anche durante la gestione di animali domestici infetti Un rischio non molto noto è quello correlato alla gestione di rettili domestici come l'iguana e la tartaruga marina Si stima che circa il 90% dei rettili domestici sia vettore della salmonella per cui è sconsigliato averli in casa se ci sono soggetti fragili come bambini piccoli o donne in gravidanza e comunque bisogna sempre lavare molto bene le mani dopo aver pulito il loro habitat terrario o vasca che sia Evitare la spiacevole esperienza di una gastroenterite da salmonella è possibile rispettando poche e semplici regole relative alla preparazione dei cibi e alla loro conservazione La contaminazione infatti può avvenire anche dopo la cottura e non solo tramite il contatto diretto ma anche attraverso il contatto con le mani, con le stoviglie o con le superfici Lava sempre le mani prima di cucinare e dopo aver maneggiato un alimento crudo a rischio Lava anche le superfici e tutti gli attrezzi che hai utilizzato come ad esempio il tagliere o il coltello che utilizzi per tagliare il pollo crudo Lava sempre accuratamente la frutta e la verdura prima del consumo e tagliala con coltelli puliti Cuoci sempre molto bene gli alimenti a rischio come carne, pesce, molluschi e uova I batteri salmonella per fortuna sono sensibili alle alte temperature per cui cuocere un alimento fino a farlo arrivare ad una temperatura interna di 75 gradi lo rende sicuro Utilizza solo latte pastorizzato e sui derivati evitando il latte crudo Conserva correttamente gli alimenti a rischio disponendoli in frigo Infatti la refrigerazione sotto i 5 gradi centigradi inibisce la replicazione della salmonella Per evitare il contatto tra cibo cotto e crudo Utilizza per quello già pronto dei contenitori ermetici E fai piccole porzioni per favorire un rapido raffreddamento Le uova sono un alimento a cui prestare particolare attenzione Perché il loro guscio si contamina già nel momento della deposizione Il prossimo video infatti sarà dedicato alle regole da seguire in cucina per la gestione delle uova Se hai domande o vuoi lasciare la tua testimonianza lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di Semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te!